Benvenuti, bentrovati, si avvicina il weekend, siamo a giovedì, bentrovati sul canale 95 di Caffè TV 24 per quanto riguarda il digitale terrestre. Caffè TV 24, l'emittente che trasmette per tutto il nord Italia su questi ed altri canali, naturalmente oltre anche all'Emilia Romagna e alle Marche. Poi ci trovate anche e soprattutto per quanto riguarda la produzione su www.venetoglobe.com trovate tutto in modalità on demand i nostri servizi, le nostre interviste e i nostri reportage. Cominciamo parlando di Champions, è ritornata la Champions, sapete insomma Roma all'Olimpico che aveva vinto 2-1 contro il Porto, mercoledì prossimo tocca al Juventus e stasera sotto con l'Europa League, con Rapid, o Rapid, vien meglio dire Inter, senza i Cardi perché passa un po' sotto tono forse la partita dell'Inter con la questione i Cardi a cui è stata tolta la fascia di Capitano, non è partito, Spalletti ha detto che è stato convocato, lui ha detto che non viene a giocare, un po' come le squadre dei bambini, insomma, vuoi venire, non puoi venire, insomma c'è qualcosa sotto, vedremo come andrà a finire questa questione con Vandanara che oltre ad essere la moglie di Icardi e anche la sua manager, vedremo come gestirà questo problema, ma è sicuramente un problema come ha fatto capire anche la sede, i quadri dirigenziali dell'Inter, questo di Icardi, intanto la fascia di Capitano va al portiere Andanovic, Zurigo-Napoli per continuare sempre l'Europa League e Lazio-Siviglia, sono certamente tre belle partite da vivere insieme. La Serie A tornerà in campo domani con Juventus-Frosinone alle 20.30, poi il campionato spezzatino come viene chiamato, sabato e domenica e ancora lunedì con la chiusura dedicata a Roma-Bologna. In Serie B invece la prossima giornata inizia oggi con Palermo-Brescia, poi avremo Benevento-Cittadella per quanto riguarda le Venete, Padova-Foggia, Spezia-Verona, c'è sempre grosso in bilico e sempre il terrore di Cersei-Cosmi che potrebbe insidiarsi e insediarsi sulla panchina del Verona, dovesse non far risultato alla Spezia. Riposerà invece il Venezia di Walter Zenga. Per quanto riguarda la Serie C, Pordenone che continua a vincere, ha battuto il Vispesaro per 1-0, il Monza ha spento ulteriori sogni del Narorosi-Vicenza per 2-0 e la Triestina è salda, il secondo posto in classifica, forse un po' sorpresa, però buona squadra. Triestina su Tirol 0-0, classifica che vede Pordenone 53 punti, Triestina 44, Feralpi-Salò 43. Sabato in campo Ternana-Triestina, Renate-Pordenone, Vicenza-Fermana e Giana-Virtus-Verona. Andiamo a vedere l'eccellenza, nell'eccellenza c'è la questione più che altro Treviso con la questione che è stata sbalzata sulla stampa in questi giorni, in queste giornate. Il Sindaco Conte sembra aver decisamente preso in mano la situazione a Treviso dicendo ci pensiamo noi, fuori questa società, non vogliamo nulla a che fare, ci sarà una nuova società, ci saranno un'accordata di investitori, sembra una cosa seria, intanto il Treviso giocherà contro l'Union QDP ancora al Tenni, ma poi ha detto Conte, il Tenni sarà una questione da sistemare chiaramente e soprattutto chiarire. Promozione, sono arrivati finalmente i tre punti al Porto Gruaro che si era visto pareggiare uno a uno questa gara contro il Caorle, però poi si scoprì che c'era stato uno sbaglio da parte del Caorle stesso nel mandare in campo i fuori quota, quindi torna in testa la classifica il Porto Gruaro senza però il suo condottiero, ovvero l'allenatore Vittore che ha rassegnato l'altra sera le dimissioni. Si preannuncia comunque in ogni caso un gran finale di campionato tra Porto Gruaro e Prodeco Montello, vi ricordo che al momento Lupiter Gina tra l'altro terza della classe è a meno 15 punti, quindi in questo momento non ci sarebbero play-off. Comanda il Porto Gruaro 54 punti, però dietro, attenzione, Prodeco Montello di Mister Marchetti ha 53, grande prestazione e grande campionato. TVBasket adesso per quanto riguarda la TVB Treviso, la De Longhi è stata sconfitta domenica scorsa dalla Tezenis Verona a Verona, la situazione di classifica vede sempre un terzo posto che non è quello che la società vorrebbe perché gli intendimenti sono eventualmente di lasciare il primo posto proprio la fortitudo che sembra destinata a salire normalmente in A1, ma posizionarsi e classificarsi al secondo posto in classifica. Per fare questo è arrivato anche un nuovo uomo, David Logan, eccolo, arriva oggi, dovrebbe, usiamo ancora il condizionale, ma pensiamo che insomma arriva oggi, la firma avrà il suo iter, il suo corso soltanto dopo le visite mediche per il neo trevigiano, diciamo così. David Logan, gran giocatore, speriamo possa servire alla causa della TVB De Longhi. Ponzano, dalla A2 maschile alla A2 femminile, Ponzano è ritornata alla vittoria sabato scorso e allora euforia perché ci sono stati poi questi 28 punti di ciabattoni, al Palacicogna si ritorna in casa, la formazione di Campagnolo affronterà il Jans, Marghera ed è un derby molto molto infuocato e molto sentito. In Serie B maschile, la Rucker Sanve, caduta ancora a Bernareggio contro questa squadra che ha vinto entrambe le gare andate a ritorno per 61-57, attende in casa adesso il Lugo di Romagna al Parasystem di Borgo Saccon a San Vendemiano. Imoco, Imoco con la pallavolo perché c'è stata questa settimana tranquilla, relativamente tranquilla dopo la vittoria facile contro Chieri 3-0 e questo turnover effettuato da Daniele Santarelli che a fine intervista, come abbiamo trasmesso nei giorni scorsi, diceva non ricordavo da tempo una settimana che sarà così semplice, così facile, dove potremo allenare le ragazze nel modo giusto ed è stata fatta questa settimana. Una settimana che porterà a sabato sera alle 20.30 al Palaverde Filottrano per un altro match di campionato, ma gli occhi sono puntati a mercoledì a Scandicci dove la formazione di Daniele Santarelli scenderà per cercare il sì, il passaggio decisivo alla prossima fase finale della Champions, una Champions che ha definito la sede, si giocherà le due finali sia maschile che femminile, si giocheranno a Berlino nel mese di maggio. Allora, domenica tra l'altro contro Chieri è stato presentato anche un camp, quello dell'Imoco Super Camp, come lo scorso anno grande successo di pubblico, di gente, di iscritti, quest'anno le località scelte sono Conegliano, Bibione e Brunico, sentiamo la responsabile del camp Silvia Giovanardi. E allora con Silvia Giovanardi per parlare di Camp Summer, e ne abbiamo parlato anche in diretta televisiva, che cos'è per chi non lo sa? Beh, è il terzo anno che ormai Conegliano ha preso in mano queste attività estive, sono attività rivolte ai giovani, quest'anno c'è una grandissima novità che sono i centri estivi residenziali a Conegliano, Conegliano è la casa delle Pantera dove si festeggiano tutte le vittorie, quindi grande evento alla Zopa Sarena per due settimane, tra l'altro dopo il grande evento della VNL che si terrà proprio in quel palazzetto, e poi le consuite Summer Camp a Bibione e Master Camp a Brunico, quindi tanta continuità ma sempre nuova aperta per un'estate targata in Moco Volley. Se non ricordo male è già un successo lo scorso anno, da ripetere insomma. Assolutamente, abbiamo avuto 500 iscritti, quindi ci è sembrato giusto, siamo partiti il primo anno con solo due settimane, l'anno scorso ne abbiamo fatte 5, quest'anno passiamo a 6 con addirittura un prodotto nuovo come il camp residenziale, perché abbiamo visto tanta voglia nei giovani di conoscerci e noi sappiamo di avere tanta voglia di investire appunto sulla pallavolo giovanile come i Moco Volley ha fatto dal primo anno di nascita. Ne abbiamo accennato più volte e in più telecronache, i giovani sono fondamentali, importanti per continuare, per creare, per chiarare la pallavolo. Certo, la pallavolo è uno sport giovane, qua è amato veramente da tutti, però quelli poi che ci ritroviamo al palazzetto a tifare in maniera corretta, lo sport è un veicolo importantissimo e per noi dell'Imoco Volley è fondamentale per la nostra crescita anche come società. Quindi da qui all'estate avrai doppio lavoro, triplo lavoro? Come sempre, non si finisce con la fine del campionato di Serie A1 italiana, ma continuiamo fino al 20 di luglio. Buon tempo. Grazie mille. Questa Silvia Giovanardi che tra l'altro è spalla del sottoscritto nelle telecronache, quindi i suoi commenti sono i commenti tecnici nelle telecronache appunto dell'Imoco che vanno in onda proprio su questa rete, Caffetv24, e poi trovate il tutto poi anche su www.venetoglobe.com. Parliamo di Benetton adesso, parliamo di rugby, torniamo a parlare perché si avvicini il match, quello di sabato contro gli Scarletts, un match interessantissimo, importante, decisivo per continuare a sognare, diciamo, per continuare il sogno della Pro 14. Si inizia a Monigo sabato alle 18.15. Attenzione perché mancherà Lamaro purtroppo, perché domenica si è infortunato, si parla per lui di crociato e quindi inevitabilmente stagione conclusa. Un altro infortunio quindi in casa Benetton, anche se questa volta è accaduto nel match contro il Petrarca, dove per l'appunto Lamaro gioca, essendo un permit che gioca sia da una parte che dall'altra. Ma anche in casa Benetton, adesso questa è un po' triste questa notizia, è in bocca al lupo a Lamaro intanto, è in bocca al lupo alla Benetton che sabato affronta Scarletts a Monigo. Anche in casa Benetton però c'è la festività di San Valentino, no? Eh beh sì, allora guardate un po' che cosa ha inventato il nostro capitano Bud per omaggiare di un augurio, di un saluto tutte le tifose di Benetton. Guardate. Buongiorno. 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 Come posso aiutarla? Volevo comprare un bocchè di fiori. Sì? Bellissimi. Mi scusi se sono curiosa, ma perché sono questi fiori? Per tutti i latifosi del Benetton Rugby, buon San Valentino a tutti. E così abbiamo fatto diventare Bud anche attore, oltre che bravissimo giocatore del Benetton e della nazionale italiana. Complimenti e auguri naturalmente a tutte le donne, a tutte le coppie per San Valentino. Dopo la pausa, chiudiamo, quindi la chiudiamo con San Valentino e chiudiamo con il rugby. Dopo la pausa per le nazionali, adesso parliamo di hockey su ghiaccio, è tornata anche la Alps guidata sempre dalla Val Pusteria. All'Odegar di Asiago, i padroni di casa dell'Asiago, vincendo per 4 a 3 contro Renon, hanno fermato questa squadra dopo ben 11 vittorie consecutive. Complimenti quindi ad Asiago. Sentiamo l'intervista realizzata sul ghiaccio dell'Odegar con il portiere Frédéric Cloutier. Eccolo. Con Frédéric Cloutier alla fine di questa partita che portiamo a casa per un gol. È sempre difficile con questi ragazzi. Dice che con loro è sempre difficile perché indipendentemente al risultato combattono fino alla fine. Effettivamente i primi 7-8 minuti del terzo tempo abbiamo rallentato un po' e siamo stati puniti. Ho chiesto se la pausa per la nazionale è stato un fattore e in che modo. Dice che avendo molti giocatori dell'Asiago, ricordiamo 6 giocatori dell'Asiago in nazionale, effettivamente pausa per la nazionale può aver influito come affaticamento per questi giocatori. RENOM è sempre come un rematch di rematch di rematch. Pensi che ci saranno con questi ragazzi anche nei play-offs? Sì, credo sia. Probabilmente non nella prima round. Ma alla semifinale o alla final, a questo punto, credo che ci saranno con i ragazzi. Se li troveremo ancora nei play-offs, dice che probabilmente sì. Se non sarà per il quarto, perché sarà impossibile per motivi di tabellone, sarà per la semifinale o forse per la finale. Credo che ci saranno bene. Ci saranno solo per chiedermi di stoppare a questo punto. Quindi abbiamo bisogno di sperimenti? Sì, spero. Il mio obiettivo è che ogni anno è di vincere una campionata. Per me, guardo come un errore se non vincere di nuovo. Quindi il mio obiettivo è ovviamente di ripetere. Grazie mille, apprezzato. Immagini molto belle, le interviste naturalmente forniteci dalla società. Abbiamo concluso anche per quest'oggi. L'appuntamento è per domani, insomma, quando riassumeremo un po' e saremo proprio vicini al weekend da trascorrere sportivamente con noi di venetoglobe.com e di Caffè TV 24. A tutti voi, buona giornata e buona serata. Grazie a tutti.